Ben trovati con Vita e Salute Grazie a tutti Ben trovati con Vita e Salute Grazie a tutti In questa puntata potremmo proprio approfondire in cosa consiste e che cos'è, quindi partiamo proprio dai sintomi quando una protesi si rivela usurata perché ci sono proprio delle avvisaglie chiare? Beh innanzitutto bisogna parlare di numeri, bisogna ricordarsi che in Italia facciamo circa 60.000 protesi tra anca, ginocchio e spalla all'anno che sono numeri altissimi che hanno avuto degli incrementi notevolissimi negli ultimi anni. È evidente che queste protesi hanno una durata, possono essere dai 15 ai 20 anni o anche meno purtroppo in alcuni casi e quindi potete immaginare quale sia il numero di persone che in questo momento può fluire a questo tipo di chirurgia. È evidente quindi che a fronte di una durata di circa 15-20 anni come avevamo detto, i pazienti necessiteranno di una sostituzione di questo impianto. E l'intervento è proprio questo, cioè quello di rimuovere l'impianto che era stato messo precedentemente e di applicarne uno nuovo. Bisogna ricordare che la rimozione dell'impianto non è un intervento meccanico così semplice, purtroppo l'osso spessissimo ha avuto delle problematiche, spesso manca, spesso ha una struttura insufficiente a tenere un nuovo impianto e quindi è necessaria tutta una competenza per ricostruire ex novo un'articolazione. Esatto, quindi è un intervento complesso, lungo, innanzitutto c'è proprio una preparazione prima dell'intervento. Sì, è un intervento che ha una durata mediamente di 3-4 ore, non di meno purtroppo, ed è un intervento che necessita di una preparazione, quindi di un'equipe specializzata che non è soltanto l'equipe medica ma è l'equipe di tutto il gruppo operatorio che ci aiuta nella preparazione degli strumentari che sono indispensabili perché bisogna ricordare che per applicare, togliere e rimettere un impianto è necessaria una quantità di materiale che spesso è imbarazzante per i personali di sala operatoria. Tra l'altro vedo qua sul tavolo proprio alcuni esempi di protesi usurate, quindi noi ogni tanto teniamo qualche impianto per ricordarci e valutare quali sono le cause del fallimento dell'impianto. Qua infatti vedo queste protesi usurate, quindi un intervento lungo e complesso, dicevamo, che richiede una presenza di un'equipe medica numerosa, anche delle strumentazioni precise. Sì, la competenza è su due livelli, la competenza chirurgica che deve essere una competenza chiaramente da parte dell'equipe ortopedica molto elevata, ma poi ci deve essere una competenza di tutta la struttura ospedaliera. Ricordiamoci che il merito di tutto questo riconoscimento regionale va anche alla struttura ospedaliera, perché è una struttura che ci permette di fare interventi estremamente complessi con una certa sicurezza, quindi tutto il gruppo degli anestesisti, tutto il gruppo, ma di tutte le persone, certe volte ci si dimentica, ma la preparazione di un intervento coinvolge molte specialità, non è solo un intervento prettamente meccanico, quindi dai cardiologi, gli anestesisti, gli internisti, i chirurghi vascolari spessissimo sono chiamati in causa in questi interventi. L'intervento dura un bel po' di tempo, quindi circa tre ore e poi chiaramente c'è anche l'adegenza, voi anche per quanto riguarda l'adegenza siete organizzati molto bene. Siamo organizzati benino, diciamo che abbiamo una struttura ospedaliera con un reparto di molti letti e quindi ci permette di seguire il paziente. Bisogna tenere presente che l'80% di questi pazienti nell'adegenza post-operatoria passano i primi due o tre giorni in rianimazione, dove chiaramente è necessario riprendere le normali funzioni vitali del paziente e successivamente nel momento in cui può essere idoneo a rientrare in reparto è necessaria una immediata riabilitazione. Quindi è un intervento che oltre alla parte chirurgica coinvolge proprio tutto l'aspetto della mobilità del paziente. Prima lo muoviamo, prima il paziente recupera e torna a essere attivo. Esatto, poi come avviene il recupero appunto? Perché c'è l'adegenza post-operatoria e poi sicuramente ci sarà una ginnastica riabilitativa. Certo, noi chiaramente abbiamo come struttura ospedaliera sia per gli impianti protesici di primo impianto sia per gli impianti di revisione alcune strutture di appoggio, di strutture ospedaliere periferiche che sono state deputate proprio a queste funzioni. Quindi noi riusciamo a trasferire i pazienti in queste strutture da Nonigo a Noventa a San Drigo dove la riabilitazione prosegue secondo i protocolli che attualmente gli stiamo dando. Dicevamo che gli interventi sono in aumento, quindi si parla anche di una fascia d'età avanzata. Sì, questo è un altro dei problemi che sta interessando l'ortopedia in generale. Noi stiamo operando persone sempre più anziane con risultati sempre migliori. È chiaro che però l'aspettativa di recupero, non stiamo parlando di aspettativa di vita, ma l'aspettativa di recupero è sempre molto alta. Tutto questo riguarda l'invecchiamento della popolazione italiana, riguarda l'aumento degli impianti che vengono fatti in strutture ospedaliere di vario livello. Purtroppo l'aumento spesso deve avere anche poi un suo completamento e purtroppo noi dobbiamo intervenire anche in un secondo tempo quando il primo impianto fallisce. Ecco, dicevamo queste protesi usurate, ma quando quindi una protesi smette di funzionare? Ma ci sono due aspetti. Il primo è quando l'interfaccia tra osso e protesi comincia a essere intaccata, cioè l'osso non è più in grado di tenere dentro di sé la protesi. E questo è uno degli aspetti, diciamo, più biologici del problema. Il secondo aspetto invece è un aspetto prettamente meccanico. Le protesi sono fatte di elementi metallici, ceramici o di plastica, plastiche particolari, e spesso in questi casi possono rompersi o usurarsi anche questi elementi. Quindi abbiamo un aspetto biologico di usura dell'impianto dovuto al nostro osso e un aspetto meccanico dovuto alla usura dei materiali che utilizziamo per le protesi. Tra l'altro nel frattempo c'è stato un continuo miglioramento o cambiamento di queste protesi. Sì, adesso utilizziamo protesi in metalli, diciamo, meno pesanti, più elastici. Usiamo delle ceramiche metallizzate che sono assolutamente resistenti e usiamo delle plastiche che sono addittivate di alcune strutture come la vitamina E, per esempio, che riducono tantissimo i fenomeni di ossidazione e di conseguenza di usura e di slaminamento dell'impianto. Stiamo assistendo in questi ultimi anni a un grossissimo incremento dei materiali nel campo ortopedico. Quindi le biotecnologie e i biomateriali stanno avendo un grande incremento. Nonostante questo, l'osso comunque spesso non riesce a tenerli e quindi siamo costretti a intervenire. Ecco, si parla di revisioni di protesi d'anca, spalla e ginocchio. C'è una differenza? Ce n'è qualcuno che va per la maggiore, diciamo così? Sì, allora, assolutamente sì, nel senso che la chirurgia protesica, cioè le 60 e passa mila protesi che facciamo in Italia ogni anno sono suddivise tra 40 mila anche 20-25 mila ginocchia e 5-6 mila spalle. Quindi è evidente che in questa fase l'anca è ancora quella che la fa, diciamo, da padrone, certamente. Però è indifferente, cioè noi ormai stiamo vedendo che anche solo per effetti traumatici, spessissimo le persone con una protesi da primo impianto ritornano a fare attività fisica, attività sportiva e spesso possono di nuovo avere degli infortuni e da questi infortuni nascere delle problematiche di tenuta della protesi. Quindi spessissimo abbiamo anche persone più giovani che hanno magari messo la protesi da pochi anni e sono ripartiti a fare attività sportiva. Quindi dottor Momeli, per concludere, quindi un bilancio, voglio che lei esprima, quindi una considerazione, anche un ringraziamento magari alla sua equipa che proprio vi ha permesso di arrivare a questo risultato, ricordiamo, centro di riferimento regionale per quanto riguarda la chirurgia di revisione protesica. Sì, io credo che il merito vada a tutto il gruppo, è un gruppo di ragazzi giovani e meno giovani che mi hanno seguito in questa avventura nel capire i cambiamenti che spesso dobbiamo fare proprio nell'ambito della nostra struttura organizzativa, nei sacrifici, perché bisogna ricordarsi che questi ragazzi giovani, e noi siamo fortunati perché siamo riusciti, grazie alla nostra struttura ospedaliera, ad assumere vari in questi ultimi anni, a fare dei sacrifici perché vanno in giro, girano l'Europa, girano il mondo per cercare di confrontare le loro esperienze con altre esperienze. E quindi non è una vita facilissima quella che chiaramente li sta aspettando, però è un tipo di chirurgia che secondo me necessita proprio di questo, cioè di una dedizione particolare e di una capacità particolare dal punto di vista tecnico e organizzativo. E intanto questo vi ha portato ad essere quindi un importante punto di riferimento per il territorio, quindi ancora complimenti. Dottor Momoli, siamo giunti al termine di questo nostro spazio, quindi ancora le rinnovo i complimenti, Buon lavoro, grazie per la sua disponibilità. Assieme a lei ringrazio i nostri telespettatori e del loro appuntamento alla settimana prossima con un altro spazio di informazione dell'Ul Sotto, Area Averica. Arrivederci.